È lunedì, dobbiamo ascoltare il buongiorno, anzi il buon lavoro, Poletti! Buon lavoro a tutti, puntata anche questa itinerante, dopo Napoli siamo a Milano, anzi siamo a San Donato milanese, alle mie spalle la sede di Cerved. E allora vediamo insieme le tre parole chiave della settimana. La prima parola chiave della settimana è leadership, il vero leader è colui che riconosce il merito, anzi i meriti degli altri, protagonista il re del giro d'Italia, Tadej Pogacar, che si è reso protagonista di gesti che potremmo definire indimenticabili. Per esempio ha regalato gli occhiali e la maglia rosa al nostro Giulio Pellizzari. Come dire, ti ho superato quando eri al comando ma hai fatto una grande gara da maglia rosa. Ebbene questa è la lezione di un vero leader, colui che è attento agli altri e anzi riconosce i meriti degli altri, con gesti veramente speciali. La seconda parola chiave della settimana è collegialità. Cos'è la collegialità? La collegialità aumenta la circolazione delle informazioni e delle esperienze, rendendo le decisioni in azienda più solide. Lo ha spiegato bene Paolo Gubitta, docente di organizzazione aziendale all'Università di Padova. E in un'intervista rilasciata al Corriere del Veneto ha aggiunto attenzione, è più conveniente litigare un po' e arrivare alla decisione giusta piuttosto che lasciare il paron, il padrone in Veneto, solo al comando a prendere una decisione sbagliata. Collegialità dunque. La terza e ultima parola chiave della settimana è telemedicina. Ascoltate, ascoltate, per il biennio 24 e 25, 2024-2025, Levissima ha previsto il servizio di telemedicina per i 200 dipendenti valtelinesi. I dipendenti potranno dunque usufruire di consultazioni generali e specialistiche. È la promozione dell'ambiente di lavoro sano di cui parliamo spesse volte qui appunto a Buon Lavoro. E allora, buon lavoro a tutti! Non dimenticate di scrivermi, scrivermi, scrivermi su LinkedIn o LinkedIn, come si dice in americano, per raccontarmi le vostre belle esperienze di lavoro. Dunque, buon lavoro a tutti! Arrivederci anche su LinkedIn o LinkedIn.